malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene in un momento di certezza economica come quello attuale l'unione europea sta cercando di mettere a punto una strategia per rilanciare la competitività soprattutto dopo le recenti crisi come la pandemia da covi del conflitto in ucraina ursola von der leyen il capo della commissione europea ha proposto infatti il completamento dell'unione dei mercati dei capitali come la via per attrarre investimenti privati ipotizzando un potenziale di 470 miliardi di euro all'anno questo potrebbe rappresentare una svolta per l'economia europea ma bisognerebbe vedere se le parole si trasformeranno in azioni concrete secondo alcuni ci sono quattro fattori che influenzerebbero direttamente costi prezzi e produttività in europa e sono la finanza la riduzione dei costi energetici la gestione delle manodopera e le competenze nonché la promozione di un commercio equa tuttavia la burocrazia potrebbe mettere i bastoni tra le ruote e l'implementazione delle agevolazioni per l'efficienza energetica ad esempio è ritardata dai ritardi nei dettagli attuativi e dalla valutazione soggetta agli organi burocratici questo potrebbe rendere più difficile per le piccole per le medie imprese italiane accedere ai finanziamenti disponibili a discapito della crescita economica in parole povere sembrano desiderare un intervento diretto sui settori in cui vogliono che i privati investano ma sarà molto interessante vedere se riusciranno ad imporre agli imprenditori la loro volontà ed è per questo che io vi invito ad un webinar gratuito potete iscrivervi tranquillamente dal mio sito www valerio malvezzi punto it che terrò il 6 di maggio alle ore 18 e 30 in questo webinar io gratuitamente parlerò agli imprenditori per gli imprenditori e parlerò di che cosa beh parlerò del fatto che l'italia come l'unione europea non hanno una strategia e quindi è necessario o meglio la loro strategia non è affatto coincidente con quella dei miei clienti imprenditori di coloro che io vedo tutti i giorni e quindi per tutti gli altri voglio raccontare che cosa vuol dire fare un piano strategico ma per l'impresa senza dover accettare i piani capestro dei politici dei legislatori di tutto il mondo che vi circonda se volete continuare a sperare che qualcuno faccia i vostri interessi bene siete liberi di farlo oppure potete prendere direttamente il coraggio in mano come hanno fatto tanti e capire che invece è necessario fare il proprio piano strategico della propria impresa sapendo come si fa quali sono i grandi vantaggi di un'operazione del genere per cercare di restare non soltanto a combattere questo mercato ma per riuscire ad ottenere quello che desiderate ottenere cioè realizzare i vostri desideri di imprenditori vi aspetto il 6 di maggio al webinar valeriamalvezzi.it malvezzi quotidiani l'economia umanistica spiegata bene